Ciao a tutti da Tiger, siamo nella parte 2 di Ugo e lo specchio stregato con la mia ragazza E la scorsa volta abbiamo completato il bimba troll e adesso andremo a fare baby troll Incominciamo Io adesso? Sì, sì Io l'ho da sempre filmato Ma che sono progiò? Benvenuti alla sfida più spettacolare dell'anno, i cinghiali più feroci, guidati dai vichinghi più coraggiosi Ma viacce il diapolo no Ancora strani versi, incomprensibili del nostro sfidante straniero, non sembrano tanto minaciosi, vero? In polio c'è questo splendido quadro di vetro Sì, come quello delle moto di Crash Stai assomigiano, fanno degli piccolini Io sono il cinghiale che ti porta Allora, io l'avevo provato sto livello E se non mi sbaglio, vabbè il gioco io l'ho finito Se non mi sbaglio, cioè, basta arrivare primo per vincere la gara Poi ovviamente per completare al 100% ci sono le gemme Però per andare veloce basta tenere premuto sempre X e girare continuamente Tu prima o poi ci arrivi comunque prima Ok Poi per frenare, quadrato Però non c'è bisogno di frenare Perché se tu giri bene Se tu giri bene puoi tenere tutta la gara tenuto premuto X e correre veloce Perché basta che giri e frena un po' da solo No, chissà, non sai i comandi, capito? Perché non te li dice Eh, li sai i comandi, è iniziato Ok Io comunque le gemme cerco di prenderle tutte Ma non è facile Perché corre Se le vuoi prendere tutte dovresti andare un po' piano Perché a volte è bu Eh, ma noi siamo andato piano Eh, già uno non l'ho preso Qui sono terzo Ehi, io mo' sono terzo E che cazzettino, estate calmalo un po' E uno non sto guardando da lontano Sì, pure io adesso Porcio Dai, figlia Questo è il livello più bello Cioè più sbrigativo Secondo Questo video sarà molto corto My goodness E dove è il primo? Eh, mo' il primo è lontano Ci devi arrivare piano piano E come c'è arrivato a un valore che c'è la partigia? Eh, ma non hai altri due giri ancora Eh, lo so Ma metto una palla però È bello È divertente questo È una palla però è divertente Mi sembra giusto È una palla a tre giri È tutto a posto Dai, dite che è tutto a posto Vabbè, sono ancora seconda Anche io Quanti giorni hai preso finora? Quanti giorni? Quante gemme? 56 E non ho preso solo 35 Ecco Ho raggiunto il primo Ah, ma ho tre giri ancora Quindi Eh, vabbè Dai Ora facciamo una cosa Facciamo una sfida in questo video Eccolo Non vi sto andando Facciamo un video Oh Ascolta Facciamo una sfida in questo video Chi Tra mette e vince Chi Chi prende più gemme Dato che nel gioco non possiamo giocare in buro Dai, non si può fare Sono prima comunque Pure io sono prima Vabbè, ma ho preso a prendere le gemme Quando sei prima? Eh, infatti sì Eh, io sto prendendo Come sono forte Madonna La potenza industriale No, che se già ci muo da Sono già ci muo da due Ma vogliamo Ma ti dico io quando sono Appena ne acchiappa un'altra Che non ne vedo più Tipo Ma ho preso questa cuba Dopo prendo l'altra parte In modo che ci sono l'altra gemme Ma perché quando va sulla neve Rallenta Quindi se poi io mi perdo L'altra Fare la cosa con la led E mi prendo Bene Basta buona voce Infatti qua non ce ne ho meno la gemme Se no rimbomba tutto Ma io adesso Se credate che sono prima Me la prendo con gomma Mi freno quando devo prendere le gemme Cazzo me ne ho fatto Ho 71 gemme io Così sto facendo quello Me ne sto prendendo quasi Cioè quello Quello non lo vedi che sto facendo Stando quello l'ho distaccato ormai E' sparito Non lo vedo più Eh però ho paura Che tu mi prendi un attimo Subito rientro 76 80 87 Ultimo giro Ultimo giro Se riesco a fare tutte le gemme E' il record Madonna mia Ma io sono una potenza industriale Tu non hai capito Ok mi sa che l'ho presa tutto Io no Quattro Nooo me ne manca un Solo una ne ho mancata Mi sa Ne ho lasciata una sola Ma non mi fallo se no Eh no ma Eh vabbè no Eh vabbè no Non lo fai tanto A me ma non mi da niente Ma non è di 4 Guarda quanto ce ne sono qua 94 ne ho presa io A me mi manca A me quando arrivi in quella parte In cui ci sono due Due parti che puoi andare Sia a sinistra che a destra Una a sinistra Eh no no In forza a sinistra le avevo presa E me ne manca Una a sinistra le ho prese tutte Porca troia Non è possibile In questo inverno violet Ah no però posso andare di qua Aspetta No 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 Posso andare di qua Guardo una sola Sua mezza qua 96 eh 97 Secondo me sono 100 totale Oh no no Ma perché non te lo dice Quando volo in conto No no Ma per prendere la medaglia Basta fare Eh Sì Deve arrivare 5 minuti e qualcosa Devi fare Ho vinto Ci ho messo 5 minuti E 21 Aspetta che non ti dico io Che penso di essere Vosa alla fine Vediamo Quante gemme ho preso 98% Ma per una gemma Ho preso oro 5 minuti e 21 Ho preso oro Però ho fatto la prova al tempo E per 2% Non ho fatto anche il livello al 100% Va bene dai Ho ferito Ho ferito Aspetta che carica Che ti dico Buono Vince la sfida Di quest'anno Lo sconosciuto Vikingo Che si aggiudica Lo splendido premio In palio Il quadro di tesoro Buono Buono Ok andiamo a salvare Per sicurezza Per sicurezza Ok salvaggio fatto Ci vediamo al prossimo episodio Per fare l'ultimo livello Dei bambini Quindi bimbo troll E poi dobbiamo fare Gli ultimi 3 livelli Con Ugo Ciao a tutti Ciao a tutti